la latitanza di Giuseppe Giorgi, 56 anni, detto capra, esponente di spicco del clan Romeo di San Luca, si è conclusa. Era latitante dal 1994. I carabinieri lo hanno bloccato questa mattina alle 8 nella sua abitazione a San Luca. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione a seguito della condanna a 28 anni e 9 mesi per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La cosca Romeo opera prevalentemente a San Luca e con ramificazioni in tutta la provincia ed in altre in ambito nazionale ed internazionale. Era ritenuto latitante di massima pericolosità ed il suo nome è inserito nel programma speciale di ricerca. Bravi, mi avete preso. Queste le prime parole che l'ex superlatitante ha indirizzato ai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e ai cacciatori di Calabria che lo hanno sorpreso in un bunker costruito dentro la sua abitazione in un palazzo di tre piani di mora della famiglia Romeo. Il ministro dell'interno Marco Minniti si è congratulato con il comandante generale dell'arma dei carabinieri, Tullio del Sette. Si tratta di un grande successo investigativo che conferma l'impegno sul fronte della criminalità organizzata delle forze di polizia e della magistratura.